Non c'è più nulla, tutte le attività commerciali che erano presenti sul corso sono tutte distrutte. C'era il tuo negozio, Sapori Amatriciani? Sì, sì, era lì sotto, un negozio storico di prodotti tipici. Arretto la volta, però dentro è completamente distrutto, abbiamo perso quasi tutta la merce. Per un valore di? Circa 35.000 euro. Il terremoto del 24 agosto scorso ha sepolto vite umane ed ha azzerato il commercio e l'artigianato, soprattutto ad Amatrice ad Accumoli, in provincia di Rieti. Abbiamo in questa zona di Amatrice ad Accumoli un sistema imprenditoriale molto piccolo, formato da 438 imprese complessivamente, e si tratta di microimprese e di una piccola impresa. Hanno cessato di produrre soprattutto le aziende del commercio e le aziende dell'artigianato di servizio. Il centro storico di Amatrice è zona rossa, zona a rischio. Si entra solo con i vigili del fuoco per tentare di recuperare il possibile, per recuperare appunto. Al momento infatti è impensabile riprendere le attività dove le macerie hanno paralizzato la quotidianità. Avete ripreso subito l'attività commerciale? No, no, purtroppo no. Dopo 3-4 giorni abbiamo cominciato insomma a ripartire, a darci da fare, però è dura. Dove avete ricominciato? Noi facevamo un sacchetto dell'amatriciana, che era il souvenir più acquistato nel nostro negozio, e adesso lo stiamo preparando nel garage di casa mia. A San Giorgio, frazione di Amatrice, Costantino e la sua famiglia hanno ripreso l'attività di confezione del prodotto che li ha resi più popolari, anche perché da fuori, sull'onda della solidarietà, stanno arrivando sempre più richieste di acquisto proprio del sacchetto con gli ingredienti per preparare l'amatriciana. Quindi c'è tutto qua dentro? C'è tutto, c'è tutto. Tutto l'occorrente per preparare l'amatriciana per quattro persone. Costantino sta ricevendo sostegno dal mercato esterno e quindi ha avuto uno stimolo per riprendere. Enrico invece è bloccato, è uno dei due fornai che avevano l'attività nel centro storico di Amatrice. Avrebbe un nuovo forno offerto da un'azienda di Verona, ma non gli consentono di allestire una struttura dove installarlo. Abbiamo tutto, il minimo è indispensabile per ripartire, per creare un po' di quotidianità, però il problema è che non c'è un posto per ripartire. Il sisma non ha fermato allevatori e agricoltori, altri settori strategici per l'economia reatina, ma ha compromesso le strutture per il lavoro quotidiano, soprattutto quelle degli allevamenti. Nel comune di Amatrice abbiamo circa 400 allevamenti, se ci contiamo anche la zona di accumuli arriviamo circa a 650 allevamenti. Di questi circa il 90% è stato colpito dal sisma, la maggior parte purtroppo è circa il 50% con danni gravi. Luca, 36 anni, erede di una famiglia di allevatori, ha subito il terremoto a Faizzone, frazione di Amatrice. Fienile e stalla sono crollate, la casa è a rischio e lui dorme in una tenda vicino al campo dove ha sfollato le mucche, perché le bestie hanno bisogno di essere seguite e anche protette da eventuali furti. Quello che ci occorre, sia a me che a altri contadini, sono le strutture per il ricovero degli animali. In queste condizioni, a fatica, riusciamo a mandare avanti il lavoro, tutte quelle operazioni che svolgevamo quotidianamente, come mettere da mangiare, mungere, dare l'acqua, insomma tutto un problema, una conseguenza dietro l'altra. Le mucche sono già stressate dal terremoto, a tal punto che hanno ridotto del 30% la produzione del latte. Con l'arrivo dell'inverno, senza un riparo, rischierebbero anche di morire di freddo e di ammalarsi. Intanto per l'immediato è arrivata una mungitrice mobile. Sì, grazie alla misericordia di Roccasecca che l'ha acquistata e ce l'ha fatta recapitare, possiamo così sopperire a questo lavoro di tutti i giorni, che facevamo manualmente, purtroppo, perché qui fuori per forza manualmente, c'è stata portata questa mungitrice mobile da usare proprio in questo momento di emergenza. E le mucche entrano qui su questo lato? Su questo lato e poi vengono incastrate dentro e vengono munte e il latte viene qui davanti. Quindi questo è già un aiuto che... È un aiuto concreto perché invece di stare all'aperto già stiamo sotto un tetto, anche se provvisorio, ma è una bella struttura.